Siamo notati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa celebra la bellissima solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Questa è una festa il cui messaggio centrale è di grandissima consolazione e speranza e aiuta a tutti i fedeli discepoli di Gesù a focalizzare alcuni aspetti essenziali della nostra santa fede cattolica. La storia del mondo, e non di rado la stessa storia della Chiesa che scorre accanto, ma anche dentro la storia del mondo, noi non stiamo su un mondo a parte, sembra camminare su registri e su modulazioni totalmente incomprensibili. Chi è che ci capisce niente guardando in giro fatti ed eventi storici, culturali, oggi potremmo dire pandemici, ed ecclesiali. Chi è che sa trovare il cosiddetto bandolo della matassa? È difficile. Le impressioni che gli osservatori superficiali e frettolosi traggono, da questo constatare, il turbinio e l'incedere caotico apparentemente di eventi e situazioni terreni, vanno dalla persuasione circa l'inesistenza di un Dio. Non esiste niente e nessuno. Siamo in balia del caso. Oppure qualcun altro dice, no, Dio esiste, ma c'è altro a cui pensare che occuparsi delle faccende montane. Quindi c'è, ma nella storia non c'è nessun valore, non c'è nessun ruolo, non c'è nessuna incidenza. Qualche altra volta, anche da qualche artista di vario genere, di vari campi dell'arte, non voglio scendere più in particolare, qualcuno mette Dio sul banco degli imputati, lo mette in stato d'accusa. Tutti i guai che stanno sul pianeta Terra sono tutti quanti colpa di Dio. Fiumi di requisitorie, volte ad accusare Dio di ogni male esistente, al suono di quella cantillana del perché non ha impedito questa cosa, pur potendolo fare. Se è Dio, perché non l'ha impedito? Perché non ha impedito quest'altra cosa brutta, quell'altro fatto nefasto? Che diciamo noi? Noi siamo in Chiesa oggi, noi siamo cristiani, siamo cattolici, siamo discepoli, amici di Gesù, siamo provocati da queste cose, no? Quindi quali sono? Dio non esiste, Dio si disinteressa o addirittura Dio è colpevole. Questa è un'aggressione che ci viene fatta, una provocazione. Allora, la festa di oggi, così la caliamo un po', è l'eloquente, anche se come sempre ammantata di mistero, risposta di Dio all'incauto, qualunquismo o pressappochismo umano. Numero uno, Dio non esiste? No, no, Dio esiste come? Ma tale fatto, però, come sappiamo, non si impone con evidenza assoluta e incontrovertibile la nostra attenzione. Nessuno può dimostrare che Dio esiste. Perché? Perché se così fosse, se si potesse dimostrare che Dio esiste, l'essere umano, ogni essere umano, non potrebbe fare altro che prostrarsi in adorazione e spendersi senza riserva alcuna nel santo servizio divino. Ma in questo modo non esisterebbe né la fede e né il merito della fede, capite? Se questo è un foglietto, non è che c'è qualche merito a riconoscere che questo è un foglietto, chi non riconosce che questo è un foglietto non è santo, è stupido. Non so se riesco a spiegarmi, no? Il nostro Dio, quindi chi è? È un Dio nascosto. Meglio ancora, non sarebbe tanto nascosto, ma Lui ama nascondersi. Perché vuole che la creatura, io e te, attenzione, usando le facoltà che Lui stesso ci ha dato, perché, attenzione, che credere in Dio non è un fatto di fede, è un fatto di testa, non di fede. Usando queste facoltà liberamente lo cerchi, impari a riconoscerlo e trovatelo liberamente e scelga di amarlo e servirlo. Il Concilio Vaticano I, che esiste cento anni prima del Concilio Vaticano II, ha detto che l'essere umano, con la sua intelligenza, può giungere a riconoscere che un Dio deve esistere per forza. Quando studiavo in seminario Filosofia della Scienza, lo raccontavo tante volte, scienziatei sedicenti atei hanno detto questa cosa. Guardate, è più facile che un gatto impazzito lo metti sul pianoforte e suoni la nonna di Beethoven, piuttosto che l'universo si sia fatto da solo e dal caso. Perché è tale la perfezione delle leggi che lo governano che non è possibile che non esista un'intelligenza che lo abbia posto in essere. Attenzione che anche il Vangelo di oggi, secondo voi il Vangelo di oggi è quello che il Signore chiederà a noi quando andiamo davanti a Lui o a qualcun altro. Fate attenzione, l'introduzione al Vangelo di oggi è che davanti al Signore verranno ad essere presentati tutti i popoli. Attenzione, in greco sono gli etne, sono i pagani. Quando Gesù gli dice guarda che tu mi hai dato da mangiare, tu mi hai dato da mangiare, qui risponde, ma scusana, ma quando mai? Ma che dici? Ma chi te conosce? Cioè, questa è gente che il nostro Signore non lo conosceva. Capite? Allora, la solidarietà, secondo noi, è un valore cristiano o è un valore umano? Cioè, il giudizio universale del capitolo 25esimo del Vangelo di Matteo non parla di quello che il Signore chiederà a noi che siamo battezzati. Questo per noi è scontato. Cioè, scusate, se uno vede una persona che sta morendo di fame, d'accordo, buttato dentro una favela o in India, avete visto le immagini drammati, ma c'è bisogno che sia cristiano per capire che bisogna dargli qualcosa da mangiare? O è una cosa che deriva dall'umanità? Capite? Se uno sta morendo di sé, se uno sta morendo di freddo, se vedi uno che a meno dieci sta congelandosi e tu c'è una coperta e non gliela dai, magari tu non sei cristiano, ma tu sei una bestia, scusate il termine, no? Non sei un essere umano. Capite? Quindi la solidarietà è il parametro di giudizio non di noi cristiani, ma di tutti gli esseri umani. Così credere in Dio, cioè riflettere con il cervello che Dio ce l'ha dato, lo sapete? I salmi dicono che lo stupido dice che Dio non esiste, non l'ateo. Chi è stupido? Io quando parlo con i miei ragazzi, con i bambini, dico Dio non esiste, Sei sicuro? Allora dico, guarda d'intorno, qualunque cosa che vedi, la casa, un mobile, una cosa che sia ordinatamente fatta, ma che si è fatta da solo quella lì? Dimmene soltanto una, una, in tutto il mondo, una sola. Non c'è. E ti pare che non ci sia qualcuno che abbia fatto tutto quanto? Quindi arrivare a questa certezza non è un atto di fede. Quindi, capite, la prima cosa che ci chiederà Dio quando andiamo di là non è se siamo stati buoni cristiani, ma se siamo stati uomini degni di questo nome, che hanno fatto funzionare il cervello, Dio esiste, e che hanno fatto funzionare il cuore. Se vedo un paro disgraziato che sta in difficoltà, ma gli do una mano. Non c'è bisogno di andare a messa alla domenica per fare queste cose. Attenzione, venite a messa alla domenica, io sono sempre un amico, ma non c'è bisogno. Capite? Cioè, se tu sei stato buono con un paro disgraziato, dici, io non andavo a messa, lascia perdere la messa. Ma che sei cieco? Non so se sono riuscito a spiegare. Vediamo un altro step, però. Secondo step. San Paolo è molto chiaro nel dire un'altra cosa, che già da adesso il Signore sta regnando. Questo Signore che ama nascondersi, ci dice il Vangelo, per esempio, dietro ai poveri della terra, che perpetuano nel tempo il grande scandalo del nascondersi di Dio dove mai nessuno si immaginerebbe o si sognerebbe di andare a cercarlo. Ossia dove? Dov'è che si nasconde Dio? Dov'è che noi non immagineremmo mai di andarlo a cercare? Ma pensiamo, per esempio, al Natale. Ma che qualcuno si poteva mai immaginare che Dio nasceva dentro una stalla di uno sperduto paesino della Palestina? Pensiamo a queste cose qui, no? Te lo andresti a cercare lì? Dio! Ma Dio lo andiamo a cercare in un posto importante, lo andiamo a cercare in una reggia, con tutti quanti gli angeli che gli vanno da schiera? No, fa nascondersi lì. Quindi Dio ama nascondersi in questi posti strani, cioè dove mai immagineresti di andarlo a trovare. Dietro alla sofferenza, dietro il dolore, dietro la morte, guardiamo Cristo crocifisso, ma chi ci crede che Gesù Cristo crocifisso è Dio che poteva scendere in ogni istante in cui avesse voluto dalla croce e che poteva fulminare tutti quelli che gli stavano davanti e non è che non l'ha fatto perché non poteva, ma non l'ha fatto perché non ha voluto. Capite? Ma chi ci crede che Dio si nasconde dietro l'ostia che tra poco alzo durante la Santa Messa? Lì c'è Dio, non è che ce lo sta per scherzo, eh? Quindi questo Dio nascosto. Quindi Dio si nasconde dietro queste cose, ma anche dietro le oscure vicende della storia che certamente si svolgono nel libero operare delle cause seconde, cioè della libertà delle creature, ma sempre sotto il controllo di Dio. San Paolo dice che già adesso, nella storia, anche se così non sembra, regna Cristo e che i nemici di Cristo, che adesso sembrano fare il bello e il cattivo tempo, fanno la gazzarra e che hanno da lui stesso ricevuto facoltà e possibilità di muoversi e operare nel libero corso della storia, saranno un giorno posti sotto i suoi piedi, tutti, nessuno escluso, con l'annientamento addirittura del supremo nemico di Dio, che è vita, ed è il Dio della vita, ossia della morte. Seconda lettura di oggi. Quindi abbiamo visto, Dio esiste. Poi, Dio è indifferente, ma Dio non è affatto indifferente a ciò che accade sulla terra, anzi, come ci ricorda il profeta Esaia, la prima lettura, nonostante egli stesso abbia voluto e posto in mezzo al suo popolo pastori che lo rappresentino e che devono condurre in suo nome i popoli alle sorgenti della verità, del bene e della vita. Io ne sono un indegnissimo e piccolo rappresentante, però Dio non abdica al suo e solo suo compito di supremo reggitore delle anime dei suoi figli. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e le farò riposare e questa sua funzione trova addirittura il modo di supplire nei modi misteriosi, ma a lui noti, anche alle incapacità o indegnità di coloro che avessero tradito o rinnegato il proprio compito di pastori. Giuda ne fu solo il primo drammatico ed emblematico esempio che non deve scandalizzarci. A tali consolanti parole fa ecco poi il salmo responsoriale in cui il salmista si abbandona fiduciosa nelle mani del supremo pastore sapendo che nulla potrà mai mancargli e che in quelle mani troverà sempre tranquillità e pace da tutto e da tutti. Il Signore è il mio pastore, uno dei salmi più belli e che danno maggiore consolazione in tutta la Sacra Scrittura. Quindi Dio esiste. Dio non è indifferente alle vicende del mondo, anzi, è molto attento a tutto quello che accade e infine facciamo il processo a Dio. Allora, Gesù non si è voluto sottrarre a processi requisitori e ingiuste sacrile che condanne. Basta che guardiamo la croce. Gesù è andato in croce al termine di un processo ingiusto e di una condanna ingiusta. ma da quelle ingiustizie la sua assoluta innocenza uscì ancora più integra e incorrotta. Mentre si manifestarono inesorabilmente nella loro cattiveria gli unici responsabili della presenza del mare nel mondo, ossia i malvagi. E i malvagi sono di due generi, uomini e diavoli, demoni, e le loro perfide e perverse, opere e macchinazioni. Cosa ha fatto Gesù dinanzi a queste cose? Se le è fatte fare e con l'amore e con la potenza divina con cui le ricambiate le ha rese impotenti, le ha distrutte. Questi malvagi però, attenzione, oltre ad avere limiti e recinti in cui la divina potenza, anche se a noi non sembra, li tiene circoscritti, hanno soprattutto le ore contate. Sapete che Padre Pio diceva che se noi potessimo vedere tutti i diavoli che esistono, materializzati, non vedremmo più la luce del sole. Prima cosa. Seconda cosa, se questi nella loro cattiveria potessero fare tutto quello che vogliono, contate un po' fino a dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, il mondo sarebbe completamente polverizzato in dieci secondi. Quindi, c'erano le catene, il nostro Dio ritiene buoni, e le ore contate. La storia scorre inesorabilmente verso il suo compimento, che sarà il trionfo di Cristo. Che lo si voglia o che non lo si voglia, che ci si creda o che non ci si creda. Gli uomini, tutti noi, devono scegliere cosa fare. Se salire sul carro del vincitore, attenzione, e soprattutto se farlo adesso, nel corso della storia, dove Cristo non sembra il vincitore, ma sembra il perdente. Sembra il perdente, ma Cristo non perde mai. Lui è il vincitore. Ha già vinto, vincerà definitivamente, ma vuole che noi ci crediamo e ci uniamo a Lui, appunto, quando tutto sembra testimoniare il contrario. Gesù processato e condannato a morte, sembrava aver perso. Ma la mattina di Pasqua, quella sconfitta, si è cambiata in vittoria. E Lui unirà al suo trionfo solo coloro che sono stati capaci di essere uniti a Lui nelle apparenti, ma mai reali, sconfitte. Siano lodati Gesù e Maria.